In questo mio nuovissimo video di Hopstars, non so, questo gioco l'ha creato la super serie, secondo me. A parte di scherzi, allora, siamo ritornati qua. Ah, non lo so che fare, però vorrei fare una challenge. Se vinco 5 partite consecutive, mi raccomando, shop su Brewstars. Va bene? Va bene. Shop su Brewstars. È una madonna! Shop su Brewstars, raga. Sì, vabbè. Vabbè, vabbè, vabbè. Una vinta, una vinta, eh. Vediamo qua che c'è. Non è niente di... tanto. Tanto. Gem Lush. Che significa? Ah. Vabbè, raga, ci vediamo dopo. Bella. Ok, raga, ho fatto questo, che erano tutte gemme, e ci vediamo là. Però, raga, ci potremmo shoppare qualcosa. Alla fine del video, però, se vinco i 5 round. Ok, ok. No, perché io le gemme me le vorrei conservare. Ok. No, 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 no. Non ho grande. No. Perché si va... Perché si va addosso a me? Non ho capito. Ma, porca maiana. Ok. Ok, seconda partita consecutiva vinta. Io le gemme me le vorrei conservare, però me le vorrei, che palle. Sì, raga, io vorrei fare pure il maldue, guardate, quello, guardate. 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 Aspettate. Guardate. Sì, ma lui no, lo sai fare nemmeno, il gol. Ma che palla. Uno fatto. Una palla e un palla. No, che palla. Due fatto. No, no, questo bastardo. Tre fatto. Quattro fatto. Cinque fatto. Tre vittore consecutive, va bene. Comunque, raga, stavo scherzando. Se posso bussare sonodi, vi prego. Ok, raga. Con il gioco voceva ridere, però non ho potuto fare quello. Va bene. Ci mancano altre due vittore. Ok. Fatto. 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 Vediamo, lui no. Mi ha fatto cadere. Ok. L'ultima partita là che ci manca. Ma che cazzo i giochi sono, poi? Ok, raga. Eccomi di nuovo qua. Allora. Fatto. Fatto. No, non lo so fare, raga. No, perché va sempre, no, lo so fare, raga. Perché mi va in alto? Non lo so fare. Dai. Ma in alto, raga, ve lo giro che non lo so fare. Guardate. Guardate. Allora, cosa fare? Grande. Ok. L'ultima, 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 l'ultima. Raga, vabbè. Ok. Perché ho fatto questa scomplessa? Perché? Ma che cazzo? Aspettate, raga. Allora, raga, eccomi di nuovo qua per pronto a sciopare. Prendiamo questa gemma. Ah. La vita è brutta, la vita. Ma perché mi ha fatto compagni? Vabbè, lo facciamo un'altra, dai. Guardate, è facile, facile. Facile, facile. È facile, facile. Ok. Ci vediamo. Ok, raga, eccomi. E mo' andiamo a sciopare. Ho la costume. Noi direi che posso sciopare questo. Vediamo, vediamo, vediamo. La papera? Ma che cazzo? Vabbè. Non facciamoci domande. Ma andiamoci a fare una partita con la papera, no? Che figata! No, ma io non riesco a giocare con la papera. C'è di filissimo. Dai. Ui! Ui! Eui! Grande papera! Grande! Eccomi qua di nuovo! Eccomi qua di nuovo sperando che non ci saranno le pubblicità. Eccomi qua di nuovo! E' bella. Ok. E' scherzo! E' scherzo! E' scherzo! Ma che cazzo? Vabbè. Andiamoci a fare un'altra partita. Sì, ma raga sono troppo forte in questo gioco. Dai, 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 guardate! Non so, non so, non so. Ui, 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 ui. Yes! No, ragazzi, se non lo avete fatto, è di favore la campanellina e iscrivetevi al canale. Basta che vi iscrivete perché Di nuovo a 22 iscritti Oppure a 20 Giverò delle armi a 106 E 130 Bella Ragazziotti